Vabbè, una sera il Stuprachi cerca di convincere il suo impresario a cantare la persona di Pianese. E' un'opera che è un locale di questo passato, ovviamente, di musica, la poeta, e anche il dono che costruisce la cantante poeta a cantare per Pianese. La cantante è unissimo bella voce, il Giovanni Bazzi sale sul palco, la conosce a cantare lui, e la gente che si accettava una canzone napoletana, ascoltando una canzone milanese, può già piangere, se vuoi fare tutto è soggiorno, ok, non trova a parlare che si accolerà. Vai, 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 vai! Sì, insieme mi raccontava, allora il Prado che raccontava che la Milano stava facendo queste canzoni su Pianese, questa cantante napoletana, e lui ha detto, dai proviamo a fare questa canzone milanese che ho scritto io, e poi si sono messi tutti a piangere e l'hanno chiesta, richiesta, richiesta, e questa è la nostra Madunina, un po' come la nostra canzone napoletana. E allora Luca, questa è per te, questo era il grande scrittore Luca Crovi. La mia carina è una canzone pronta. La mia carina è una canzone per la mia carina è un po' come la nostra canzone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.